... Qual è il suo ricordo dello squalo, un film che tutt'oggi il pubblico italiano trova comunque terrorizzante? Non lo riesco neppure a raccontare, ci sono così tanti aneddoti che riguardano la lavorazione dello squalo, sono forse di più che su qualsiasi altra pellicola, di sicuro lo squalo resta anche oggi uno dei film più terrorizzanti mai realizzati, è un film eccellente sotto tutti i punti di vista, sono stato davvero fortunato a potervi prendere parte.